Diego, c'è qualcosa di là? In là si c'è tipo un pascolo, una mucca... C'è una specie di renzo. Oggi vanno a te i muri. C'è un pozzo, un pozzo... Da si c'è un pozzo. Ma che c'è un pozzo che c'è un pozzo? Non c'è un pozzo. Ci sono stati passati a un pozzo che... Oggi siamo stati passati a un pozzo. Grazie.